Per rapinare una gioielleria dovete conoscere bene gli orari. Se volete rapinarla di notte, che quindi i gioielli sono nel cavo, lì non potete, ci vogliono almeno 15 anni di esperienza. Se volete rapinarla di giorno, che quindi i gioielli sono esposti nella vetrina con i commessi all'interno, lì rapina a mano armata, rischiate molti anni di galera. E allora dovete trovare la falla, dovete trovare il punto debole, dovete conoscere tutto del posto. E te come fai adesso per queste cose? Cioè quant'anni hai? Abbastanza per capire che siete spacciati.